questo questo vinciamo una zero vinciamo una zero qua così dai forza così alto siete persi il gol purtroppo per un problema del video cos'è che ti spacco un piede così involati involati ma ci marcano bene ci marcano bene il bolide rimane lì rimane lì una pallina forza apri apri il gioco scarpate a go go entratacce fallo brutto fallo cartellino giallo ci prova la romania ci prova prende l'arbitro così malissimo e finisce finisce qua germania che passa al prossimo turno grandissimi grandissimi prossimo turno abbiamo i coreani coreani del sud squadra sicuramente ostica noi paura non ne abbiamo loro giocano in blu questi bei coreani grande giro palla della corea via 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 sono pericolosissima con le palle lì è una situazione dove stazione la palla al centro campo giocagliela così non riusciamo non riusciamo a uscire non riusciamo non riusciamo a uscire dal centro campo con questi coreani questi tremendi coreani se l'allunga lui se l'allunga vuole andarsene via allungandosela ma sappiamo che non basta parla indietro fallo questo è un fallo scorretto cartellino giallo per fan per un faro su arder dai picchiala così forza ragazzi forza campioni spaccagli una gamba questo qua dai forza così c'è il football il football che giochia piace giocare a noi il problema è che i nostri vanno alla metà allora l'abbiamo 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 c'è il gol e c'è il gol c'è il gol l'abbiamo ho paura che finisca 0 a 0 questo match e brutto fallo E finisce qui Finisce qui la nostra avventura